Ciao a tutti ragazzi per questo nuovo video, noi siamo The Two Brothers e cosa ci faremo meglio diverso Allora ragazzi come avete visto prima anche dalla clip non ci troviamo sia a casa nostra ma non a casa di mia nonna come ho detto Perché il pacco è arrivato oggi a casa nostra Beh ragazzi non perdiamoci chiacchia e iniziamo subito con lo spacchettamento Benvenuti in questo nuovo video, io sono Luciano di The Two Brothers e quest'oggi farò vedere il treppiedi che ho appena ordinato su Amazon Non è che ho appena ordinato, già l'avevo ordinato e adesso è arrivato a casa mia nonna tra ieri e oggi dovrebbe arrivare Comunque noi faremo vedere il mio fratello quando lo spacchetteremo proprio a casa mia nonna Però dovrebbe essere proprio questo Comunque se vi può interessare costruendo 17 euro è molto utile perché la spedizione è pure gratubita E niente iniziamo subito con lo spacchettamento Allora ragazzi iniziamo subito a spacchettare il pacco Intanto ho un coltello per così mi aiuta a tagliare Sono le prese che il pacco che non riesce a... Senti, ti ho lasciato Allora qui Allora qui Allora qui Allora qui Riuscire ad aprirlo Finalmente Giuro ce l'ha visto Adesso C'è tutta questa carta per... tanto quanto pare dall'immagine è un trippiedi in realtà sicuro e si immagini sembra neanche questo la scelofia iniziamo a rompere le pene così allora Luciano questo qui che stai prendendo così? qui c'è un telecomando bello fammi vedi e ragazzi questo è un piccolo telecomando in cui puoi fare pensi con questo di sopra penso che si facciano a quale istruzione devo fare un video? vabbè poi dopo vedremo qui c'è la base dove si può mettere il telefono esatto oppure la canna la mettiamo qui dovevo vedere anche tutte le cose inoltre qui c'è il porta treppiedi con il treppiedi dentro penso ma ma sciantia fette eccolo argento buono che avevo scritto io da sopra e mi pare di aver letto che si allunga fino a un metro se non sbaglio no se lo vediamo subito no si si questo non è un metro si allunga qua ah si allunga ah beh no mi sconcio di farlo quindi poi qui lo abbiamo c'è anche un liquido vieni a vedere c'è anche un liquido qui non so cosa sia aspetta che è più tecnico lo puoi anche scrivere qui sotto nei commenti fermo 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 eccolo qui questo qua c'è un liquido all'interno vabbè fateci vedere cos'è sicuro sapete poi inoltre abbiamo questo ragazzi questa è una delle prime volte in cui faccio io da cameraman ma come si mette dove c'è uno? viene e riesce a mettere no non riesce a capire come funziona diverso lo stai rompendo ok ma forse qui si monta questo esatto e ovviamente il giro all'interno diciamo potresti fare ecco qui intanto ah ma se lo metti così ah se lo metti questo e di chiamare casa e se la galosica ancora voglio capire ancora con liquido se metterlo dritto cioè la ah per farti capire se è dritto o no ok si poi infatti è storto così così regola vabbè allora ragazzi qui aspettate un attimo dammi qua capisco che non siamo pratici ma metterlo così storto come si fa? è storto? no guarda il liquido giusto si l'abbiamo appena messo dritto adesso ci hanno cerca di capire come funziona qui c'è una pila che ci potrà far funzionare questo inoltre mettiamo la pila dentro richiudiamo il tutto mi fa tempo qui ci sono le istruzioni ragazzi inoltre qua si accende si spegne e da come ho letto che tra l'altro cosa c'è in inglese non è meglio quindi non ci vedo per bene dovrò scaricare un'app che si chiama bluetooth remote shutter e dovrò scaricare per far funzionare questo coso questo che poi ovviamente voglio fare sia le foto ah ci sono pure due funzionalità questo è per ios cioè per tipo iphone e questo è per android ovvero per il mio sistema di operativo del telefono comunque ragazzi questo qua ve l'ho detto vi dico che per oggi è tutto mi chiedo di lasciare un like se il piacere questo video è innovativo iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e se volete un treppido anche voi vi consiglio questo perché è anche molto economico vi ho fatto vedere anche la clip su amazon come dovevo ordinarlo e come si chiama beh ragazzi ci vediamo alla prossima bella bro